occhiale balistico e ss merinosa ex dotazione esercito britannico questo prodotto è un prodotto usato è stato in dotazione all'esercito inglese un occhiale balistico di buonissima qualità di alto livello troviamo l'occhiale con la lente trasparente il coprilenti in tessuto elasticizzato che serve qualora voi volessimo portarlo sul casco e coprire le lenti in questa maniera la copertura li rende inscalfibili protegge dalla polvere e dalle abrasioni all'interno troveremo in ogni caso i ricambi che consistono in altre coppie di lenti sia gialle sono contenuti in degli astucci molto resistenti antiurto che color fumo i occhiali sono di prima scelta per cui sono dotati di astuccio con tutte le sue componenti l'elastico è in buon essere ed è regolabile le lenti sono ancora in buono stato non presentano usura o graffi tali da poterle ritenere inutilizzabili presentano sì un'usura diffusa ma alle volte come in questo caso sembrano proprio utilizzate pochissimo la lunghezza dell'elastico fa sì che possa essere messo sia su una testa normale che anche su un elmetto perché è molto molto allungabile